ci sono stati due episodi uno a latina l'altro a carlentini che in questi ultimi giorni ci devono far riflettere su quanto il tema del rapporto con le nuove tecnologie sta un po' trovando delle devianze che non solo sono pericolose ma quanto in realtà quella emergenza educativa di cui abbiamo parlato anche qui di domenica più volte sta assumendo dei contorni che sono più che preoccupanti e quali sono i due casi ve li riassumo velocemente come provo a fare sempre nel mio editoriale il primo è quello di una ragazza di latina 14 anni il preside decide che nella sua scuola i telefonini devono essere consegnati lei si rifiuta di consegnarlo perché dice che il telefonino non è al sicuro che non è protetto che lo possono rubare insomma tra l'altro spiega questa cosa in un lungo audio messaggio che manda tutti i suoi compagni di scuola poi ripreso da tutti i media e quindi un audio messaggio whatsapp che potete ascoltare tranquillamente andando su google e digitando un po questa vicenda e lei naturalmente spiega che è successo qualcosa di grave perché poi a un certo punto lei ha chiamato il padre il padre è arrivato a scuola insieme al fratello e al socio di suo fratello che iniziano a ragionare con il preside nella versione di questa ragazza è il preside che avrebbe provocato nella versione del preside giustamente c'è esattamente il contrario di quello che ha detto questa ragazza insomma si è creata a quanto pare una colluttazione con denunce e situazioni che sono a dir poco incresciose e questo è l'episodio di latina c'è poi un secondo episodio a carlentini dove sempre adolescenti una ragazza prende allegnate esattamente strappe capelli fa di tutto con una sua coetanea compagna di scuola le altre ragazze ridano sghignazzano e contemporaneamente registrano anche questo video anche questo diventa virale allora c'è da chiedersi in tutto questo le famiglie quanto si stanno mettendo in gioco per affrontare questa emergenza educativa che cosa realmente stiamo facendo e come lo stiamo facendo perché questi due episodi che sono due episodi di cronaca che possiamo definire clamorosi che avranno adesso delle ripercussioni sicuramente indagini provvedimenti ma abbiamo visto anche che la legge sul cyberbullismo non sta risolvendo il problema del cyberbullismo abbiamo visto che la situazione della scuola di latina ci fa comprendere in maniera inequivocabile che bisogna intervenire e che la strada è abbastanza chiara educazione all'emozione educazione ad un uso consapevole delle tecnologie ma soprattutto una scuola per i genitori per spiegare a che cosa i loro figli vanno incontro quali sono le grandi opportunità ma anche quali sono i grandi pericoli ma su questa strada non riusciamo ad essere in qualche modo incisivi non riusciamo a far comprendere che bisogna partire dal basso e che la repressione non serve a prevenire e allora che facciamo? aspettiamo il nuovo fatto di cronaca ed è questa la cosa che mi fa più paura